È la entry level del mondo Mercedes-AMG, ma non per questo va sottovalutata, lei è la nuova Mercedes A35 AMG. A livello estetico un occhio poco allenato potrebbe confonderla con una normale classe A con pacchetto estetico AMG, poiché le differenze sono davvero poche. Arriva il badge AMG sulla griglia anteriore e la scritta Turbo 4Matic dietro al passaruota, più riconoscibile invece al posteriore, dove arriva un doppio scarico di dimensioni generose e un nuovo estrattore dell'aria più vistoso. La versione A35 AMG è disponibile anche con il pacchetto aerodinamico, che include un grande alettone e delle alette poste sul paraurti anteriore, che la rendono decisamente più cattiva per non passare inosservati. Il 2 litri turbo-benzina sotto al cofano eroga una potenza di 306 CV, che viene scaricata a terra grazie alla tipica trazione integrale Mercedes 4Matic, che le assicura uno scatto da 0 a 100 in soli 4 secondi e 6. Grazie alla coppia di 400 Nm spinge forte fin dai bassi regimi e arriva a toccare i 250 km metri orari di velocità massima, controllate elettronicamente. Il comportamento della vettura cambia notevolmente in base alla modalità inserita. Le sospensioni adattive e le valvole allo scarico la rendono confortevole e docile quando richiesto, e precisa e rabbiosa non appena si seleziona Sport Plus. Decisamente piacevoli i numerosi scoppiettii in rilascio e incambiata che fuoriescono dagli scarichi posteriori. Grazie a tutti.